Tutta l'Italia da oggi è zona protetta e quanto disposto dal governo nazionale per rallentare la diffusione del coronavirus. Il DCPM, io resto a casa, è in vigore da oggi fino al 3 di aprile. Da oggi in tutta la penisola, Abruzzo compreso, è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive, campionato di calcio incluso, mentre lo sport all'aperto è ammesso purché rispettando la distanza di almeno un metro tra ogni individuo. Bisogna evitare di spostarsi, a meno che non si abbiano comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per muoversi basterà un'autocertificazione, ma chi dichiarerà il falso potrà incorrere in sanzioni penali. La raccomandazione più importante è quella di evitare spostamenti inutili. Ripeto, non è vietato circolare in città, ma si chiede se è possibile di rimanere il più possibile a casa, quindi di evitare uscite che non sono uscite importanti o necessarie. Dentro la città non necessitano le autocertificazioni, ma necessitano autocertificazioni per spostarsi altrove, quindi fuori dal territorio comunale. Non essendoci più alcuna zona rossa è consentito il ritorno a casa. Le merci invece potranno continuare a circolare liberamente e di conseguenza non c'è alcun bisogno di assaltare i supermercati. Inoltre chi ha più di 37 gradi e mezzo di febbre è fortemente raccomandato di rimanere a casa, così come chi è in quarantena. Le aziende hanno l'obbligo di agevolare ferie e permessi per i dipendenti. Chiusi inoltre gli impianti sciistici e sospesi tutti gli eventi e le cerimonie, complesi quelli culturali, ludici, religiosi e fieristici. Chiusi asili, scuole e università. Ristoranti e bar potranno continuare a lavorare, ma solo dalle 6 alle 18 e mantenendo al loro interno le distanze di sicurezza. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, quali centri commerciali e mercati. Chiusi centri sportivi, palestre, piscine, centri termali, sociali e ricreativi e sospesi gli esami alla motorizzazione civile. Quello dichiarato dal Presidente del Consiglio è un decreto inquietante da clima di guerra, ma necessario per rallentare il più possibile il contagio, affinché il sistema sanitario sia in grado di offrire assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno.